Nel primo fine settimana di ottobre, nonostante il periodo di crisi, la città di Leonforte è riuscita a proporre anche quest'anno la nota sagra delle pesche, giunta ormai alla sua 33esima edizione. Si è trattata di un'edizione praticamente quasi a costo zero. Se il comune purtroppo non è riuscito a supportare economicamente l'evento, non sono mancati i sacrifici dei commercianti e delle realtà imprenditoriali locali che, ciascuno secondo le proprie possibilità, hanno concesso una forma di sponsorizzazione al fine della riuscita della sagra. Così anche quest'anno è stata celebrata la rota pesca di Leonforte, ma sulle bancarelle accanto al frutto sono state esposte in bella vista anche molti oggetti e prodotti culinari, facenti parte della tradizione enogastronomica leonfortese e siciliana. Le piazze e le strade della città sono state per l'occasione animate con numerose attrazioni, quali solo per citarne alcune, mostre di pittura, una passeggiata ciclistica denominata pedalando e degustando la pesca a cura dell'Avis, l'evento sportivo Bimbi a cavallo a cura del centro ipico Piuti e di giochi di Vanedda, a cura dell'associazione Entroterra, aventi come obiettivo quello di proporre gli antichi giochi di quartiere per favorire la conservazione di quel patrimonio culturale che pian piano rischia di perdersi. La Sagra è considerata un appuntamento molto importante per Leonforte, il sindaco Francesco Sinatra è dunque molto soddisfatto perché nonostante il periodo tutt'altro che semplice, la città non ha dovuto rinunziare all'evento.